ciao ragazzi siamo in compagnia di s7 edge e xiaomi mi 5 mi è stato chiesto da molti utenti di fare un po un confronto tra questi due dispositivi dal punto di vista di gestione ram quindi ho appena riavviato i dispositivi hanno la ram libera ma vi faccio giusto vedere che vado a liberare qualsiasi cosa si possa liberare come potete vedere qua non posso fare nulla e adesso andrò ad aprire uno di fila all'altro delle applicazioni per poi riaprirle per vedere come gestirà appunto la ram e quindi la riapertura delle applicazioni stesse partiamo con chrome accediamo lo stesso sito siamo con lo stesso wifi quindi la stessa velocità di rete e sto utilizzando chrome in entrambi i dispositivi ok ha caricato chiudiamo anche ok così sono veramente identici poi usciamo apriamo pages su entrambi chiudiamo adesso qua xiaomi torna sempre alla home apriamo fenix su entrambi i dispositivi chiudiamo apriamo spotify su entrambi i dispositivi chiudiamo apriamo youtube su entrambi i dispositivi chiudiamo apriamo real racing 3 su entrambi i dispositivi e lasciamo caricare il gioco quindi un gioco molto pesante che conosciamo bene tutti samsung veramente rapidissimo nel caricare giochi pesanti mi ha impressionato usciamo apriamo adesso clash royale un gioco molto meno pesante e vediamo come si comporta chiudiamo su entrambi i dispositivi ora riapriamo chrome e vediamo se ricarica il tutto ok perfetto su entrambi riapriamo pages su entrambi perfetto su entrambi riapriamo fenix su entrambi perfetto su entrambi riapriamo spotify su entrambi perfetto su entrambi nessun ricaricamento youtube su entrambi i dispositivi si comporta in maniera egregia real racing 3 non ricarica nulla clash royale non ricarica nulla rifacciamo un'altra volta chrome perfetto su entrambi i dispositivi pages perfetto su entrambi i dispositivi fenix perfetto su entrambi i dispositivi spotify perfetto su entrambi i dispositivi youtube perfetto su entrambi i dispositivi real racing 3 già caricato quindi non ricarica nulla quindi come potete vedere 3 giga di ram su xiaomi 4 giga di ram su s7 edge la ram viene gestita veramente molto 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 bene per quanto riguarda xiaomi abbiamo 753 mega disponibili in questo momento potremmo andare ad aprire altre mille cose probabilmente rimarrebbe comunque ben fluido Samsung dovrei entrare dentro al gestore ma non è questo quello che volevo farvi vedere era il fatto che la ram viene gestita molto bene qualsiasi tipo di applicazione aprirete ovviamente se ne aprirete 200 no però già con 7 applicazioni aperte rimangono tutte aperte senza che queste vengano chiuse dal dispositivo perché occupano troppa ram quindi entrambi i dispositivi gestiscono la ram molto molto bene spero di aver fatto una cosa gradita quindi fatemi sapere se come genere di video vi può interessare in modo da con tutti i prossimi top di gamma magari fare questa prova e farvi vedere come gestiscono la ram appunto quindi entrambi i dispositivi superano la prova entrambi i dispositivi la gestiscono veramente molto bene a presto con i prossimi video ciao a tutti da Daniele per Spazio Hightech a presto